Ben ritrovati in diretta ancora con voi per questa prima finestra sull'informazione con Udinews TV. Siamo al momento dedicato allo sport, la rassegna stampa sportiva. Guardiamo le prime pagine di quest'oggi. Cominciamo con la gazzetta sportiva. La domenica è la gazzetta sportiva. Vediamo che in apertura c'è la smorfia di contrarietà di Cristiano Ronaldo. Ieri la Juve è rimontata dal Parma al 93esimo a doppietta di Gervinio che imita Ronaldo. Anche lui autore di una doppietta. È tornato capocannoniere, c'è il R7 ma non è bastato. Livoriano ha risolto la situazione, ha firmato la rimonta in casa della Juve 3-3. Adesso il Napoli si avvicina. Allegri dice troppi errori dietro, questo stop però ci farà bene. Il Napoli invece non sciupa l'occasione e sale a meno 9. Però Amsic se la squaglia dovrebbe approdare in Cina. Ancelotti cala il Tris alla Sampa. Apre Milik torna a segnare anche Insigne. Poi ricorre di Verdi. Si ferma la striscia di Fabio Quagliarella. Invece in taglio più alto le partite di quest'oggi. A San Siro alle 18 Spalletti attacca e contro Siniscia il ribelle Perisic. Giocherà contro il Bologna con Mialovic che ha appena approdato sulla panchina. E Perisic alla resa dei conti è rimasto e quindi adesso deve dare tutto per la causa. Invece il Milan ci riprova l'esame di GECO. Questa sera Roma-Milan all'Olimpico sfida a spareggio per il quarto posto. Gattuso dice dopo il mercato. Siamo più forti. In taglio più basso si guarda alla Premier con la prima doppietta del Pipita al Chelsea. Dopo un esordio un po' offuscato. Invece si riscatta a Gonzalo Higuain. Due gol. E Sarri respira. E poi vediamo ancora. Lecce scavone migliora. Oggi lascia l'ospedale. Invece Little Rugby ottiene il diciottesimo K-Hall di fila. Un record che imbarazza, si legge, sulla gazzetta. Andiamo a vedere anche le altre prime di quest'oggi. Non è la BBC. Fa ironia il Corriere dello Sport. Dopo la sconfitta in Coppa il pari col Parma. La Juve ha problemi in difesa. Non bastano due gole e un assist di Ronaldo. Gervinio recupera il pari al novantatresimo. Sei gol presi in due partite con Bonucci, Barzagli e Chiellini K.O. Siamo stati troppo superficiali. L'autocritica di Allegri. Sembra svanita la sicurezza feroce, dice Roberto Perrone. Invece Milica insigna. Napoli vero. Ancelotti riparte. 3-0 alla Samp. Si decide tutto nel primo tempo con i gol del Polacco e dell'Azzurro. Nella ripresa chiude Verdi su rigore. Amsic invece è vicino all'addio. Andrà in Cina il capitano azzurro. Di Francesco rischia tutto. Stasera una Roma in crisi dopo la brutta uscita in Coppa Italia. Bruttissima. Affronta il Milan. Il tecnico si gioca il posto. Siamo agonizzanti ma non ancora morti. Gattuso non si fida. Dovremo stare attenti. Spalletti all'esame Mijailovic. Conte da Marotta. Non è assolutamente vero. Quindi smentisce che ci siano già stati dei contatti fra la società di Zang. E Conte. Doppietta con Dedica Sarri da parte di Higuain. Nella terza gara con il Chelsea. Il Pipita si sblocca. Travolto l'Addersfield. Doppietta proprio di Higuain. Nel sorriso di Scavone. Tac negativa dopo il trauma cranico e la perdita dei sensi di venerdì. E invece una botta al 6 nazioni per l'Ital Rugby. Vediamo anche Tutto Sport. La banda del buco. Così l'apertura dedicata alla difesa della Juventus. Alla Juve non basta. Super CR7. Un grande parma. Clamorosa rimonta giallo-blu da 3 a 1 a 3 a 3. Il nuovo capocannoniere con la doppietta. è Cristiano Ronaldo ma la difesa tradisce Allegri che se la prende anche con Mandzukic per l'errore decisivo al 93esimo. Malissimo la coppia Caceres e Rugani. Intanto lo vedete qua. Spalletti smentisce ma l'ombra di Conte agita il tecnico dell'Inter. Nervi tesi oggi durante Inter-Bologna. Sogno il grande slam. Invece l'intervista alla Sofia Goggia che vola con la forna ai mondiali e si racconta così la nostra azzurra di sci. Vediamo anche quello che succederà invece quest'oggi a Udine perché arriva la Fiorentina. La squadra è già arrivata ieri alloggia alla storia e si gioca questo pomeriggio alle 15 con una gara sicuramente difficile per la squadra di Nicola che ha detto dovrà essere battaglia. Ma la Gazzetta presenta così la gara con Chiesa così la Viola può sognare. Fiorentina a Udine forte delle sue sette reti segnate nelle quattro partite di gennaio. È sicuramente un momento d'oro per Federico Chiesa. Due doppiette e una tripletta anche alla Roma. Nicola dice giochiamo bene e soprattutto dobbiamo lottare per due maglie. Ci sono tre candidati, Okaka, Pussetto e De Paul. Il pallone che si è portato via Chiesa a Roma è un simbolo. Il ragazzo è sicuramente maturato e proprio con il rapporto con Pioli ha contribuito alla sua crescita. La partita di Udine è comunque complicata. Accanto agli intoccabili Chiesa e Muriel dovrebbe toccare ancora Miraias con il belga tagliare da sinistra e Chiesa da destra. Qui le varie parole dei protagonisti. Dobbiamo andare in campo e combattere. Dice Nicola che va dritto al nocciolo della questione. Oggi contro una delle squadre più in forma del campionato serve un Udinese da battaglia per cercare di muovere la classifica. Abbiamo completamente sbagliato gara con la Sampdoria ma è stata l'unica. Aggiunge Nicola che per l'occasione non avrà a disposizione Sandro che non sarà pronto prima di due settimane. Che ritrova nella lista dei conto convocati anche Teodor Cicchi. I dubbi di formazione riguardano l'attacco. Ci sono tre uomini per due posti. Ocaca, Pussetto e De Paul. Lasagna, convocato in nazionale per lo stage di Coverciano, ancora non ha sistemato del tutto il problema alla spalla. Intanto, le prime parole con cui si presenta Mijailovic a Bologna. Chi ha paura stia in panchina. Così dice il tecnico che guarda la salvezza. È un miracolo ma si può fare con l'Inter. Dipende solo da noi. Conosco bene l'Inter e San Siro. Se facciamo le cose per bene possiamo prendere dei punti. I giocatori hanno capito il mio calcio. Sono liberi di fare ciò che voglio io. Sempre un tecnico con dichiarazioni particolarmente precise. Così si inizia Mijailovic. Vediamo anche l'apertura riguardo alla partita di quest'oggi da parte di Gazzettino e Messaggero Veneto. L'Udinese alza il muro così l'apertura del Gazzettino. Dopo due sconfitte serve un risultato positivo. Ancompari con i Viola potrebbe fare morale. Difesa a tre, dice Nicola. In campo conta l'equilibrio. Pussetto è candidato a prendere il posto di De Paul. E Kong sarà titolare oggi insieme a Noiting. Mentre Sébastien de Maillot dovrebbe prendere il posto di Nicolas Opoku. La protesta dei tifosi è stata analizzata da Nicola ieri in conferenza stampa. La loro decisione è un modo di dimostrare l'attaccamento alla squadra. Accettiamo la loro protesta civile. Ma ci piacerebbe che ci dessero una mano. Oggi servirà l'impresa. Si legge la Fiorentina ha segnato 14 reti nelle ultime tre gare. Mettendo il turbo. Anche grazie all'ex bianconero Muril che da quando ha rimesso piede in Italia non perde un colpo a segno in tutte le gare in cui è stato utilizzato da Pioli. Mentre sugli spalti i tifosi bianconeri sono più che mai addecisi a non incitare la squadra del cuore. Ma è come in questa circostanza, dice Nicola. Dobbiamo essere squadra compatta in grado di saper leggere la gara. Contro la Sandale lo siamo stati nei primi 25 minuti. Poco per sperare di fare risultato. A Genova abbiamo commesso errori gravi. Siamo stati puniti. Chiedo ai miei di lottare in maniera ordinata. Ognuno deve fare la sua parte in funzione del collettivo. Abbiamo parlato in spogliatoio della presa di posizione dei tifosi. Manifestano un senso di attaccamento alla squadra con una protesta civile. Ma è indubbio che in questo momento e sempre tutte le componenti ci dovrebbero dare una mano. Ma accettiamo la loro decisione. Il mercato di riparazione ha cambiato un po' l'organico. Ma dei nuovi, oltre a Okaka, che da quando è Udine ha sempre giocato, si può far pensare di far scendere in campo solo Sebastien De Maio. Considerato che Opoku non potrebbe essere particolarmente sereno dopo gli errori di Genova. Wilmot si è allenato venerdì pomeriggio ieri mattina, sarà in panchina. Sandro invece è ancora out. Nicola dice, non l'ho ancora visto, senza aggiungere altro, anche perché ha lamentato un acciacco. In panchina invece la notizia positiva, l'arrivo, il ritorno di Theodor Cic e anche di Ingelsson. Poi si parla dell'attacco. Il tecnico non ha voluto parlare di formazione. In corso suo si è fatto un'idea, ma non ha voluto svelare le carte. Non è facile rinunciare ad Epole. L'ipotesi potrebbe anche essere quella di fargli prendere fiato. Ma il tecnico ha sottolineato che al mondo ci sono due o tre giocatori al massimo, imprescindibili per la squadra di appartenenza. Il modulo dovrebbe essere sempre il 3-5-2. Nicola lo ha fatto chiaramente intendere. In settimana abbiamo raddoppiato le sessioni di lavoro per provare sistemi di gioco diversi, ma per la difesa 4 dovrei disporre di un terzino con determinate caratteristiche. i numeri lasciano il tempo che trovano, conta invece l'equilibrio. Bisogna essere compatti. Non abbiamo fatto punti con Ile Parma, come avremmo meritato, ma siamo stati sicuramente più compatti rispetto alla gara con la Samdoia. Con la Fiorentina servirà attenzione, ma bisognerà lottare e stare tutti uniti. Questo è l'appello di Nicola. Intanto si parla anche della partita di domani, si è parlato venerdì durante i festeggiamenti per il Barone Franco Causio. Torniamo alla realtà e giochiamo anche per Davide Astori, ha detto Giancarlo Antonioni, che ha previsto una partita complicata. Così il gazzettino. Passiamo al messaggero Veneto, che racconta dell'impresa dell'Udinese, che va a caccia dei primi punti del 2019, contro il supertridente della Fiorentina. Dopo la pausa invernale i bianconeri sono ancora secchi, devono fare bottino per non farsi risucchiare in basso. Così il messaggero Veneto. Ieri si è mosso anche l'Empoli, che ha agganciato l'Udinese. Una notizia, quella di ieri, del pareggio dell'Empoli, che sicuramente non sorride la situazione in classifica dei bianconeri. Una posizione scomoda, quattro punti di vantaggio sul Bologna e uno in più sul Frosinone, attese rispettivamente da Inter e Lazio. sulla carta, un turno favorevole rispetto all'Udinese, che deve incontrare la Fiorentina. Il Bologna va a San Siro, fresco del cambio di allenatore, contro un Inter discusso eppure stanca per i supplementari persi in Coppa Italia. Al pari della Lazio, che andrà a Frosinone per il derby. La Fiorentina arriva al settimo cielo, reduce da timbro sul pass delle semifinali, con un risultato clamoroso. I sette gol alla Roma e che invece si può evidentemente giovare sia di Federico Chiesa, ma anche di Luis Muri. È inutile dire ovviamente che c'è preoccupazione riguardo alla partita di questo pomeriggio. Per cercare di ribaltare l'inerzia, Don Nicola dovrà rimescolare le carte in modo sapiente, dando credibilità al proprio reparto avanzato, dice il messaggero Veneto, attraverso un numero di giocate nell'area avversaria che alla fine determini anche il peso dell'attacco di ciascuna squadra. Da oggi si rivedrà Teodor Cic, il polacco pare avere imboccato la strada giusta e dovrà scegliere dove piazzare De Polle. O davanti Conocaca, favorito su Pussetto, oppure in panchina. Don Rodrigo infatti non dovrebbe giostrare a centrocampo dove ci dovrebbero essere Berami, Mandragora e Fofanà con Larsene ed Alessandro sulle fasce. Questa è la situazione della formazione secondo il messaggero Veneto. Andiamo sempre avanti sfogliando le pagine. Nicola prepara il suo piano di battaglia, andiamo in campo e lottiamo. Il tecnico chiede ai suoi di essere pratici, giocare bene e perdere, come succede col Parma. Mi fa girare le scatole. ha parlato anche di De Polle, di giocatori imprescindibili. Ce ne sono stati tre in tutta la storia del calcio. Dobbiamo essere tutti sul pezzo, non siamo in 40 e tutti saranno utili, sia che giochino dall'inizio, sia che subentrino a gara in corso. Questo è il suo parere su De Polle. Intanto ieri c'è stato un pareggio, quello dell'Empoli con i Lechievo e i bianconeri appunto sono stati agganciati in classifica. Poi vediamo anche le altre partite, l'abbiamo detto, il 3-3 fra Juventus e Parma con il Parma in rimonta che vince in casa della Juve al 93esimo e la secca vittoria della Napoli ai danni della Sampdoria al San Paolo con i gol di Milicchi in signe e Verdi con il capitano Amsic che saluta. È un grande invece Pordenone e dopo lo vedremo sulle pagine proprio dedicate ai Ramarri. Il Tavagnacco intanto ieri doveva giocarsela con il Milan e ha perso 3-1. Le ragazze di Rossi perdono in casa e lanciano le rossonere nella rincorsa alla capolista Juve che oggi gioca con la Roma. Ritorna alla vittoria anche il Pordenone riecco appunto i tre punti ma la Triestina c'è non molla. Squadra di nuovo solida e cinica un gol per tempo in Molese K.O. nel big match i Giuliani e il Monza vincono in pieno recupero e rovinano parzialmente la festa. Lo vedete appunto l'esultanza di De Agostini dopo il gol poi sotto Ciurria osserva la palla infilarsi in rete e a destra ancora Berrettoni attaccato da un avversario a metà campo. 49 ecco qua la classifica del Pordenone seguita dalla Triestina a 40 e proprio da Limolese a 38 Triestina che ha rovinato parzialmente la festa perché c'è stata la vittoria grazie alla doppietta di Maracchia e poi Granosch che esulta in questo scatto a petto nudo dopo il gol vittoria al 96 e sabato prossimo alle 16.30 al Rocco ci sarà Triestina Monza questa la situazione del Pordenone con un presidente Lovisa felice il pubblico capisce il nostro lavoro Ciurria conferma siamo stati cattivi uno sguardo anche alle altre discipline sportive ritorniamo sul messaggero perché c'è in questo pomeriggio la prima trasferta un'altra trasferta della GSA Ravenna alle ore 18 è arrivato il momento di fare un colpo fuori casa dopo l'impresa di mercoledì con la fortitudo Udine alle 18 a Ravenna Coach Martellossi non si nasconde cerchiamo punti pesanti per la classifica ventesima giornata per il girone est di A2 fisco d'inizio alle ore 18 Smith è il pericolo numero uno così si vede si legge la situazione degli avversari della mea intanto ancora a punti ora è pronta per il mondiale nello slalom di Maribor la tarvisiana è 28 nella seconda manche potevo fare meglio nel fondo invece Cristina Pittin conquista uno splendido bronzo ai tricolori under 23 per il ciclismo Bergagna con patente 13 l'influenza frena toneati oggi tocca invece all'atleta Sara Casasola andiamo ancora avanti sempre sul quotidiano perché c'è anche un'altra trasferta da registrare per la CDA Talmassons una trasferta vincente e un'impresa anche della farmaderbe che ha vinto in casa 3 a 2 con l'asolo mentre invece la CDA è andata a Trento a vincere 3 a 0 Banca di Udile ha vinto 3 a 1 con Codognè e Fratte ha vinto con l'est volley per 3 a 0 questo è il quadro anche della situazione della pallavolo regionale e adesso prima di salutarci diamo uno sguardo ai programmi di quest'oggi perché ovviamente staremo con voi in questa lunga domenica di sport si comincia alle 14 con la diretta dedicata alla partita Udinese Fiorentina e poi alle 21 e 30 studio e stadio commenti ovviamente essendo una partita in trasferta stiamo a raccontare anche le imprese della APU GSA quindi a partire dalle 18 la diretta della partita con questo noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito appuntamento con Accade Oggi di Guido Gomirato buona domenica il 3 febbraio del 2013 in una gara in notturna al Meazza il Milan batte l'Udinese 2 a 1 è una gara particolare una gara equilibrata è il debutto in rosso nero di Balotelli basta questo per richiamare il pubblico delle grandi occasioni quasi 70.000 persone e Balotelli nel primo tempo va subito in gol a seguito di un'azione nata sulla corsia di sinistra ma l'Udinese è l'Udinese di Guidolin l'Udinese che in quella stagione stupirà non ci sta e nel secondo tempo l'inizio del secondo tempo ottiene il meritato pari con Pins poi attacca il Milan i bianconeri si difendono senza fanno la gara si sta incanalando verso l'1 a 1 ma in pieno recupero ecco che l'arbitro interpreta un'entrata da tergo incivolata di Ertò come fallosa e decreta il rigore nonostante le reiterate giustificate proteste da parte della formazione di Guidolin dal dischetto realizza Balotelli e il Milan vince immeritatamente 2 a 1 grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.